Musica Bello a tutti ragazzi, bentornati nel Dark Channel, io sono Dark PC e bentornati in questo video speciale Natale Questo qui è un video che, questo gioco Last Chance Supermarket l'avete già visto nel mio canale Però questo video diciamo, a parte il gioco, era un video da parte mia per augurarvi un buon Natale a tutti quanti voi Davvero vi ringrazio tantissimo, mamma mia, davvero grazie, grazie, grazie a tutto di quello che fate, dei vostri commenti, dei vostri mi piace Comunque buon Natale a tutti quanti E adesso prepariamoci per il grande pranzo di Natale E via! Troppo bella sta musichetta Allora, dobbiamo prendere, dobbiamo prendere, dobbiamo prendere Fun, fun, fun Toy Rocket, Rocket, Rocket Ok Abbiamo preso la Rocket, poi, che ci serve? Vai, vai, vai Non ci sta qua Oh, mamma mia Di questo nulla, perfetto Allora, shopping list Ah, schianto Vai Christmas lights Ok, abbiamo fatto le Christmas lights Poi Andiamo con Laptop, laptop, laptop Ehm, di qua no Però non ci sta niente di qua, giusto? Sì Ah, andiamo dai giocattoli su Sono dieci aeroplanini Mamma mia Allora, ho toito i rocket Perfetto Facciamo il giro largo Ehm, vi servono, servono altre rocket Allora, aeroplanini, aeroplanini Ok, giro largo Oh, attenzione, attenzione Mi servono gli aeroplanini Attenzione, attenzione Allora, poi, 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 poi Ehm Laptop, laptop Vai, vai, vai Vai con i laptop Perfetto Ok, abbiamo preso i laptop Ottimo Latte, 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 latte Vai, vai, vai con latte Latte, latte, latte Latte, latte Ok, mi rimangono Gli aeroplanini di giocattolo, ma Non li vedo Cioè, sono finiti, mi sa Eppure i laptop Poi sono finiti Ma mi andavo a schiantare Eh, sì Come posso fare, come posso fare Oh, devo aspettare Che qualcuno Si schianti Per prendermi la roba Perché Sono finiti Lettera Attenzione Attenzione No, no, no Qua ci sarà lo schianto No Però io non vedo più I laptop E gli aeroplanini Sinceramente Eccoli Attenzione Questa è una sfida Dobbiamo farcela Vai, vai, vai Proprio spirito natalizio Al massimo Poi con la musichetta Bellissima Riproviamo Quelli che ci saranno di più Oran, Juice E Toy Rocket Vai Ok Toy Rocket Andiamo a prendere Il succo 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 Ok Già che c'ero Devevo andare a prenderci Delle fan Del succo di arancia Allora Vai Oran, Juice E' fatto Vai Fan, fan, fan Sono Questi qua Dovrebbero essere Fatemi vedere Ok Fan, fan, fan Me ne servono altre Quindi Ok Qui non c'è più niente Quindi Fan Dele fan Ancora Ok E sono fatte Allora I robot I robot I robot I robot E Eccoli qua Perfetto I muffin Ci sono rimasti Solo quelli Oh 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 Ah ma non sono questi i muffin E quali sono? Forse quelli che mi sembrano uova Forse sono questi Olè Vai 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 Dritti dritti adesso A pagare la spesa Mamma mia Mi stavano facendo fuori Ed è fatta ragazzi Ce l'abbiamo fatta La spesa di Natale Paint this way E vai così Comunque ragazzi Io adesso ne faccio Un'altra volta Vai Spacebar E play Facciamo un'altra volta Dai Anche se ci siamo riusciti Toy Aeroplane Gli aerei c'erano più di tutti E anche i giocattoli Così Allora vai 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 così Aeroplanini Ok Aeroplanini sono fatti Toy truck 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 8 Un altro Non ci sono Ah Vabbè mi sono dovuto andare a schiattare per forza Tac 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 Allora Candele 7 candele Vai Le candele sono fatte Succo Madonna 10 succhi d'arancia Vai 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 Attenzione 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 Vai Vabbè Arancia 10 Perfetto Potto 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 Che sono le pot Non lo so Potto Potto Forse qualcosa qui dietro Ah Le potto Sono queste cose bianche qua Che io non vedo più però Vai 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 Allora Che ci serve Vai vai Andiamoci a prendere le pai E le alarme flocca Vai Prendiamoci qualche candela Quest'opera Le pai vai E quali sono le pai Ecco Sette sveglie Vai vai Le sveglie ci sono Ok Non so cosa sono Ah Le pai E le pot Vabbè Andiamo alla cassa Vediamo cosa succede Siccome non ci sono più Andiamo a pagare Vediamo un po' Vai L'ultima volta E Andiamo qua Candela Via 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 Pai 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 Che erano le pai Luce natalizie Luce natalizie Luce natalizie Sette 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 Una All gone Perfetto Vai 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 Robotman toy Vai Stampanti Sette stampanti Stampanti Eccolo Ok Solo le pai Mi sono rimaste Che non so cosa sono Niente di questo Ok Le pai Vai vai Allora facciamo prima i libri Diamo spazio prima alla cultura Vai l'ultimo libro E' scomparso E' scomparso Printer Printer Ok Allora Un clock Vai Dici Slider Latte 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 Corri 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 Vabbè Dovevamo farcela Vabbè ragazzi Non fa niente Io vi ricordo di mettere mi piace Iscrivervi e commentare Seguitemi su Facebook Instagram Buon Natale a tutti voi Ciao a tutti